Go back, please enjoy your party, I'll be here Somewhere in the corner under Ciao ragazzi! Ciao ragazze! Allora oggi sono qua con la mia cucinetta a registrare questo video Try on haul Degli acquisti E i capelli d'oppa Sì sì, mi hanno lasciato stare i capelli d'oppa Lei è la mia cucina Se mi seguite su Instagram sapete già Insomma ve l'ho mostrata Nelle storie, un oggettino ve lo mostrano Nelle storie E vive a Arezzo Quindi è stata qua una settimana dalla nonna Un po' da me, dalla mamma Fatti il pacco postale E ovviamente siamo andate ai Cigli Siamo andate a Parcoprato Quindi abbiamo fatto un po' di shopping E gli ho detto perché invece di fare il solito video Acquisti e da sola Non lo fai con me? Ha scacciato una zanzara Cioè lasciate stare le coperte del Napoli Dell'Angela, lasciamo stare Spostati un po' per vedere quanti sacchetti c'hai La prima scarpa che vi mostro è questo bellissimo tacco color cipria Ricoperto completamente da borchie La suola è rossa ma potete acquistarla anche con la suola dello stesso colore della scarpa Il tacco è 11 cm Dal video si nota che mi stanno leggermente grandi Infatti dovevo prendere almeno mezzo numero in meno Metterò magari una soletta Nel sito sono disponibili tutti i numeri Il costo è di 51 euro La seconda scarpa è questa Sempre color nude cipria Anche questa con il tacco Le borchie sono oro E sono presenti solo nella parte superiore Il tacco è di 10 cm Suola del colore della scarpa Ci sono anche di questa scarpa qua tutti i numeri E se avete bisogno di un aiuto per un numero Per capire quale numero prendere C'è la guida alle taglie Altrimenti potete contattare loro O per email o su Instagram Perché sono sempre disponibili e gentili Il costo è sempre di 51 euro Allora partiamo da Terra Nova Ci siamo state oggi E siccome era l'ultimo giorno di shopping E ovvero meno soldi Abbiamo detto spendiamo meno E quindi abbiamo preso poche cose Allora ho preso questo vestitino rosso Troppo sexy Favoloso Allora c'ha il collettino così Smanicato E poi è tutto ripreso ai lati Ai fianchi insomma E non è né tanto lungo né tanto corto Ovviamente poi la lunghezza la potete regolare In base a questi laccini qui Insomma la regolate Qualsiasi vestito Qualsiasi capo che facciamo vedere Lo vedete meglio indossato Ora farvelo vedere così si capisce poco Vi diciamo anche taglie e prezzi? Sì Almeno vi regolate su di noi In base a noi insomma Decidete che taglie prendere Se non potete acquistare al negozio Questa è una L Pagato non a sconto 15,99 E a noi piace stare larghe vero? Per questo ho scelto LXL Perché di roba stretta Con sto caldo Non ne possiamo sentire Vedete Sempre rossa Quest'anno mi ho preso il rosso Ho preso questa musandina Per Cioè costume Per il mare Che è un po' alta Però mi piace portare delle cosine alte Ne ho poche Quindi ho detto vabbè Sgambate Esatto È alta e un po' sgambata Quindi se magari un giorno siete un pochino più gonfie Questa è perfetta Perché vi copre un pochino di panzettina Questa è una L sempre Questa non a sconto Veniva a 9,95 A sconto Su 5 euro? No Sui 7 euro 7,99 Brava 7,99 E ok Questo non era a sconto Poi l'ultima cosa che ho preso a terra nota Bellissimo Per dormire Questo qua Molto sexy anche questo Senza coppe Tutto di pizzo nella parte del seno E poi Così normale Fatto a buona Questo sempre è una L Invece di 19,99 C'era il 50% di sconto Quindi pagato 9,99 Passo la parola alla mia cucina Io ho preso lo stesso vestito Che lei ha preso rosso Ma io l'ho preso nero Che almeno Lei è più sexy Io più classico E ho preso lo stesso Proprio fatto con Gli stessi ricami E lo stesso modello E ho preso sempre anche io Una L Quindi c'è il 99 Però lei lo voleva nero Sì Poi è meno volgare È per una ragazzina di 15 anni Nero 15 anni Già è particolare Già è particolare il vestito Se poi lo mettiamo anche rosso Diciamo che lei abbiamo gli stessi gusti Quindi non sono io che gli dico Sì compra quello Cioè io e lei veramente siamo Spiccicate Stessi gusti Stesso tutto Stesso pensiero Poi che cosa abbiamo? Piazza Italia? Io da Piazza Italia ho preso Questa connellina Verde smeraldo E Senza bottoni Ha i bottoni finzi E è elastica in vita Ha le tasche E E ho preso Una Una L Che avevo pagata 15 euro Una L 15 euro La mia bravissima cugina Mi ha comprato anche un paio di orecchini Con la scritta Kiss Che forse non si vedono per la troppa luce Però Me le ha comprate lei Ho fatto con il pezzo forte di Piazza Italia Questi Scarpini A lei non piacciono Per me sono favolose Sono di questo color panna Con La tenina oro Sono un 38 Sì E sono anche abbastanza comode Molto carine Cioè per lei no Per questi sono troppo velline Io ho preso questi qui come lei Invece di 3,95 euro Con la scritta Sexy A lei li ho fatti prendere kiss Sì grazie mamma Che poi hanno la S glitterata Ma ti immagini gli orecchini con il vestito rosso? Eh Direi Poi ho preso queste infradito Sperando quello colino non ve le mordo In questo momento si sta mordendo una gamba sua Comunque ho preso queste infradito Belle Con la bronzatura Ovviamente risalta il piede Perché sono tutte bianche E lo sfondo è maculato Argento Queste venivano 3,95 Scusa Io devo guardare un giro Devo guardare un giro Qui in Tulio Io sto guardando Dai inizio il video lì E poi ho comprato un matisse Questo è un matisse Un po' arancioni Sì E già ci muoviamo per gli acquisti Se diciamo così Questo era scontato Perché era gattile Poi Da abbinare con le ciabattine rosse e bianche Con il tacco Che vi ho fatto vedere nelle storie Tempo fa Con la borsina Ricamata a mano Con il manico Quella bianca Con il manico di legno Che vi ho fatto vedere sempre nelle storie Ho deciso Per una sera al mare Di abbinare queste cosine Con un vestito bianco Quindi fare un outfit Total white Questo vestito è troppo bello Finisce così E il sopra È fatto così È una LXL E questo niente L'ho pagato non a sconto 19,95 Questa qui è la gonna Che voleva anche lei Ma non ha trovato la taglia più piccolina Veniva 17,95 Con il 16% Pagata a 15 euro Vai facci vedere Bershka Che tra l'altro Non ho mai visto nemmeno io Ah è vero Allora da Bershka Ho preso una camicetta Tira qua lo scontrino Per i prezzi sei meglio tu Sì Ho preso questa camicetta Maniche corte Con lo Ying e lo Yang E poi c'è il sole E la scritta Love Ed è super carina Anche se così sembra Uno straccio Ma indossata È un amore Ed è corta Questa 15,99 15,99 Non era scontata E ho preso una L Ovviamente ci è tornata Ben due volte Gilly Tre Tre E costasera quattro Sì Stasera non compro niente No stasera Anzi no Devo comprare il lip da Kiko Quello che mi ha rubato la zia Allora da OBS La seconda volta Perché la prima non me l'ha fatta comprare Ma ti ho detto prendila E te no mi vedi che mi viene ai fianchi Non era vero niente Ho preso questa Gornellina A quadri Tipo tovaglia Però è carina Ah è bellina Ed è super super carina Corta E arriva fino a sotto al sedere È corta Vi dice qualcosa a voi Però Poi siamo andati ovviamente da Primark Però ultimo step Vero? Ultimo Perché prima abbiamo fatto a fine negozi Sennò poi Ci stiamo tirando la voglia Ah comunque da Tazzitalia Ecco avevo preso anche dei leggings Quelli corti E io ho un vestitino Aderente Verde Che ha lasciato dalle altre Businette Allora Ho preso Da Primark Inizio io Sì Queste mutande Che sono abbastanza alte Senza cuciture Qua Perché nei vestiti Belli aderenti Voglio essere ben contenuta E quindi ho preso queste Color carne Almeno Penso stiano bene Insomma sul tutto E Volendo anche sul bianco Ho preso questo pacchetto Da Tremutande Una L Comunque 6 euro Tremutande Poi delle grucce Perché gliele rubo sempre all'angelo Perché io le finisco E lei non ne ha più Solicamente Queste grucce Sono 10 2,80 euro Sul grigio vellutato Sì Poi Ho preso Questi Colotte Eh Tipo Sì Tipo colotte Tipo fatti a boxe Non lo so Una M 6 euro Sono nere Oh questo si è Vedevole prendere anche io Eh perché sono comode Veramente Su tutto Quelli hanno anche sotto vestiti Sì Poi Pantaloncini Neri Anche per andare al mare Perché non ho Pantaloncini carini Quest'anno Molto Molto leggeri Infatti sono anche abbastanza Trasparentini E questi Ho staccato il cartellino 5 euro Mi pare Sì Non prendi 5 euro Poi Ho preso Un pareo Fuzia Perché io Quando sono in spiaggia Se sono in costume Non so te Ma se ti potevo andare al bar O voglio andare In costume Quindi voglio andare Con qualcosina sopra Anche se magari Mi lascio il pezzo sopra Però Sotto Insomma Non voglio andare in uta Poi ho preso Questi gommini piccolini Tondi Anche perché Sono tantissimi 1 euro e 50 E di colore Fortunatamente c'è anche il marrone Perché almeno si Nasconde bene tra i capelli Per quando mi faccio le frecce Perché io uso sempre Gommini giganti Frecce che non sa fare Però No esatto Poi Ma anche questo Ho preso da Freccia Italia O da Primark No da Piazza Italia Ecco Infatti c'era qualcosa Vi volevo far vedere Allora Da Piazza Italia Ho preso Questa tutona È gigante Infatti Forse Tende a ingrossare un pochino Ma non me ne frega Perché mi piace troppo Freccia unica 19,95 Quindi non scontata Il sopra è fatto così E il sotto Vedete meglio dal video È bello Grosso il pantalone E finisce così Una tuta È una tutona gigante Ho preso questo Vestitino Volendo andare in spiaggia Sì Che poi tra l'altro Di questa è una S Quando mi dico Ma che taglia fai Boh Io vado dalla S Alla XL Sì sì Anch'io Vedete È fatto così Con questo volant Alla fine Io lo chiamo volant Ma che siamo In un altro modo Verrà sui 13 euro 13 o 16 No Su me o meno Poco più di 10 euro E una cannottiera lunga Bianca E questa veniva Ma sui 4 euro 3 euro Non mi ricordo Poi ho preso Una cannottiera Nera Semplice Cortina Molto più corta Di quella 1 euro 80 Perché la mamma Se le ho a sconto Sei single Sei un bel ragazzo Ho 15 anni Sono libera Giulia Metti l'instagram Questo non lo sapevo Non si è programmato Vabbè Continuiamo Vestitino di jeans E questo raga Mi sa 16 euro Sì Poi tre gommini fucsia Questi neanche Te li avevo visti Fucsia rosa chiaro E rosa più chiaro E pagati 2 euro Ci sono anche questi Pantaloncini Che poi vi faccio vedere Nella clip Sotto sono fatti A pantaloncini E sopra c'è A questa pantaloncina Esatto No non sono fatti Perché ho preso anche questo Ah già È 4 euro da Primark Sono troppo belline Delle sapattine Sì E ho compreso A Primark Perché una cosa Mi capita Tra le mai Queste paio di Finte Converse Alte Di pelle E Che pagate 11 euro E ho già iniziato A metterle in realtà E ancora le devo Un po' allargare Però sono Super comode E la procedente In un altro paio Sì Le ho prese altre E le ho prese altre Basse Perché ovviamente Una cosa la compri bene O non la compri Quindi io non mi sapevo Accontentare di tutte e due Di una sola E le ho prese tutte e due Poi ho comprato anche Queste sobbattine Con le piume Pagate 3 euro Una M E le scarpe Le tutte e due 11 euro Un totale di 22 euro Le scarpe Uguali Identiche Poi ho comprato parecchia roba inutile Ho comprato tipo Un telo fucsia E arancione Fucsia E 5 euro Sempre per la piscina Ho preso una bikini bag Tipo Rosetto chiaro Un chicco Pagata 2 euro E poi ho preso questa Borsina Così Tipo che io uso Per il pranzo Ecco io l'ho presa uguale Ma nera qua Ti ho presa alla fine Per il pranzo Ah e non ti avevo visto Prendola con le farpalle Nere e rosa Io da portare a scuola Almeno Quando faccio il rile Poi ho preso anche Una borraccia Sempre utile Per la scuola E pagata 5 euro Poi ho preso un pacco Di mutande Due parti a destre Uno di questo Rosa E un altro Pitonato Che ho in borsa Di quest'altro rosa Più scuro Più antico Poi ho preso Questi Come si chiama? Barattolini vuoti Barattolini vuoti Del beauty Per metterci dentro Le cremine Che non si vede Più trasparente Però Un euro pagato Come fate Quattro e cinquanta Questi cosi Due euro Due euro e cinquanta Poi Il best part Di questo acquisto E questo vestitino Questo qua Lungo E anche Che lei vuole accorciare Accorciare i due centimetri Anche tre Dieci E ho preso Una europea Quarantaquattro Italia Quarantotto 16 euro E niente Ho finito anch'io Questo era l'ultimo acquisto Ed il migliore Vi lasciamo alle clip Abbiamo cercato di andare veloce Perché Era tanta roba E conoscendoci Noi ci si perdeva in chiacchiere Niente Allora Noi vi mandiamo un grosso bacio Spero che i nostri acquisti Vi piacciono E Seguitici su Instagram Virgi30 Sofie03 Viola06 Come è lungo Scrivete Virginia Sofie Viola Fate prima E anche Mi raccomando Single Alto Carino Anche TikTok La ragazza Anche TikTok Sì Adesso l'ho messo pubblico Noi vi mandiamo un grosso bacio E ci vediamo Nel prossimo video Come da sola Perché tu non ci sarai Ciao Raga Eccoci riapparsi E Niente Praticamente Vabbè Sotto fondo c'è l'Angela Che canta Niente Praticamente Oggi siamo tornate Gigli Siamo state in due negozietti Ovvero Primark Sephora E Piazza Italia Allora Io ho preso le sciopattine Fucsia Perché ovviamente Si abbinano al pareo Di Primark Pagate Due euro E 95 No vabbè Bellina col codino No Troppo bellina col codino Adoro Butanda Nera Per l'estate Come costruito Scontato 5,95 Questa non c'è Ora Sotto consiglio Abbiamo preso Il leaf balm Scrab Che poi venivano 4 euro e 99 Dragon fruit E che è Frutto del dragone O drago frutto Frutto drago Insomma Questo è lo scrub E poi Un leaf scrub E io poi ne ho approfittato Per prendere anche Il Facimo Finta E come Faccio Vitamine Solo si Che ne vai Comunque Stavo dicendo Che poi ho preso Anche il burro cacao Alla pesca Quindi ho preso Una pesca Al frutto del dragone Ancora Non lo perco Comunque Questa è buonissima Poi Sono passate Da Primark Guardate cosa ho preso Per la led L'impermeabile Questo è finito Quando me lo ricompri Ok Allora ho preso Questa guanellina Che fai? Questa 10 euro Spikes Cannottiera Fucsia Fucsia Invece di 8 Ma questo non si sapeva Che era scontato Invece di 8 Sì Non si è manco guardato Sì No l'ho visto subito Per questo mi sono avvicinata A scontato Perché 10 euro Questo top Quindi gli davo 4 euro va bene Ora vi saluto Usiamo veramente Oh guarda le mie bellissime scarpe Che la Giulia invidia Perché sono maculata Ciao allora Io sono sempre single In tutto ciò Ciao 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 Ciao